Bufera Monfalcone sul medico che ha scritto su Facebook a Salvini, ti si otturino le arterie commentando la foto in cui il vicepremiere è ritratto mentre mangia un panino con la nutella e il sindaco Cisinte chiede provvedimenti. In provincia di Udine calano furti e rapine, in generale tutti i reati, aumentano i controlli sul territorio e le persone scoperte quali autori dei crimini, ma la truffa continua a correre in rete e le trappole online rimangono numerose. Preseppe imbrattato a Udine scoppia la polemica dopo le presunte dichiarazioni del sindaco Fontanini che avrebbe puntato il dito contro il mondo gay, ma è detto nulla del genere, replica il primo cittadino che si affida alla Digos. Volontari della Croce Rossa al lavoro di notte durante le festività con un'ambulanza speciale, il mezzo Save Point che permette di aiutare con coperte, abiti e bevande calde le persone che vivono in strada. L'ex bianconero Rodolfo Vanoli presente a Ferrara al match contro la spalla parla di confronto deludente, l'organico dell'Udinese è adeguato, dice a penalizzare la squadra e il sistema di gioco. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Non sono passate inosservate su Facebook le parole di un medico di Monfalcone che se l'è presa con Salvini. Ti si otturino le arterie, ha scritto commentando la foto in cui il vice premier è ritratto mentre mangia un panino con la Nutella. Il caso è stato portato alla ribalta da teleantena e adesso il sindaco Cisint chiede provvedimenti. Il servizio. Non è passato sicuramente inosservato il commento del dirigente medico dei servizi trasfusionali al posto del ministro dell'interno Matteo Salvini. La dottoressa commentando la foto in cui il ministro è ritratto intento a mangiare una fetta di pane e Nutella non è andata a certo piano, augurando a Salvini che gli si otturino le arterie. Immediata la reazione del mondo politico in primis del sindaco di Monfalcone Anna Cisint. Ho avuto modo di leggere sui social media con un certo stupore e orrore le affermazioni della dirigente medico dei servizi trasfusionali. Rileva il sindaco nella lettera inviata anche al presidente della regione Massimiliano Fedriga e all'assessore alla sanità Riccardo Riccardi. E a parte l'indignazione personale dei tanti cittadini che mi hanno contattato nella mia veste di sindaco incaricato a tutelare la salute pubblica, voglio esprimere le forti preoccupazioni per il ruolo che la dottoressa avvolge nell'ambito del sistema sanitario nell'ospedale cittadino. Tenuto conto delle conseguenze che potrebbe avere un suo comportamento che fosse consono agli intendimenti dichiarati nei confronti di persone con idee politiche diverse alle proprie. Per queste ragioni conclude il sindaco Cisint. Ritengo che devono essere assunti tutti i chiarimenti e provvedimenti necessari a dare fiducia e serenità alla città sugli atteggiamenti e comportamenti di chi svolge funzioni delicate e rilevanti nel sistema sanitario e che pertanto non possa essere consentito una sottovalutazione del caso. Dalla bufera di Monfalcone alle polemiche per il presepe imbrattato a Udine scoppiano dopo le presunte dichiarazioni del sindaco Fontanini che avrebbe puntato il dito contro il mondo gay. Il sindaco si fermi e usi saggezza. Il clima di tensione che si respira a Udine è diretta conseguenza delle politiche di odio e repressione di cui la giunta comunale si è fatta portavoce. Ad esprimersi così su Pietro Fontanini, dopo le sue dichiarazioni sugli atti vandalici nel presepe di Piazzetta del Pozzo, sono rispettivamente il segretario provinciale del Partito Democratico Roberto Pascolat e le associazioni LGBT. Tutto ha origine dalla reazione del primo cittadino di Udine all'imbrattamento e alle scritte ingiuriose comparse sulle statuine. Forse, avrebbe ipotizzato Fontanini rispondendo alle domande dell'agenzia ANSA, si tratta di gruppi che fanno riferimento al mondo anarchico o LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender, che hanno preso di mira questo presepio per la vicenda della panchina rimossa per dare spazio alla rappresentazione della natività. La prima reazione è quella del segretario del PD Pascolat. Fontanini afferma, toglie panchine consapevole del messaggio che vuole mandare e quando qualche sciagurato compie un gesto esecrabile, dice che potrebbe essere colpa di qualcuno del mondo gay senza distinguere. Questo è l'inferno della generalizzazione, una violenza morale che spezza ogni legame di comunità e di socialità, instilla l'odio e getta la colpa sempre sugli altri. Indignate si dicono Archigay Friuli, Lune Alfi e l'associazione universitaria Iris che parlano di accuse gratuite e infondate da parte del sindaco. Non chiarisce in base a quali elementi ci muove queste gravissime accuse, scrivono in una nota, e noi non riusciamo a capire in che modo un atto simile, rispetto al quale ci dichiariamo estranei, avrebbe dovuto giovare alle nostre istanze. Accusare pubblicamente, diffamando e calunniando con tale leggerezza, aggiungono le associazioni LGBT, non è affatto un comportamento consono a chi ricopre ruoli istituzionali, specialmente a un sindaco. Così facendo, Fontanini svela palesemente la sua volontà di renderci un bersaglio per l'opinione pubblica. In tutto ciò però Fontanini nega con forza di aver mai puntato il dito contro qualcuno. continua ad esprimere tutto il suo disappunto per l'accaduto e poi si affida alla Digos per l'identificazione dei responsabili di questo atto vandalico. Mai dichiarato nulla del genere, mai puntato il dito contro alcun gruppo di cittadini. Saranno gli inquirenti, la Digos in particolare, a individuare i responsabili dell'atto vandalico. Il sindaco Pietro Fontanini nega con forza di aver indicato i gay come autori dell'imbrattamento di Piazzetta del Pozzo. Io sono rimasto molto amareggiato e anche preoccupato da questi atteggiamenti così forti perché qualche volta c'è qualche danneggiamento, qualche imbrattatura, qualche cosa così si muove qualche statua. Ma questa volta oltre a dipingere le facce di marrone si sono state fatte delle scritte, delle scritte molto esplicite. Frasi pesanti, cito quella che era stata appiccicata a San Giuseppe, la vostra fede, un razzismo dalla lunga storia. Io penso che la fede cristiana sia una fede di amore, non di razzismo e nemmeno soprattutto di violenza. Mentre il messaggio dice che in pratica noi siamo persone violente e quando facciamo riferimento a questi simboli che sono simboli dell'amore, della serenità, della famiglia come il presepio, addittiamo così a qualcosa di negativo. E' molto strano, anzi è preoccupante questo messaggio che arriva all'interno della città di Udine, fatto da qualcuno che ha sfidato anche le telecamere. Io spero che la Digos dia un nome e un cognome a queste persone perché veramente meritano quello che la giustizia prevede per loro, perché non si fanno queste cose. La cronaca, soccorsi nella notte, tre giovani escursionisti di Ponte e di Piave bloccati nel territorio di Erto e Casso, nella zona sottostante il sentiero Donè. L'allarme era scattato alle 19 quando alcuni forestali hanno avvistato delle luci in movimento in un canale. Una squadra di soccorritori composta da sette tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleo Fluviale e due del SAF dei Vigili del Fuoco ha raggiunto a piedi tre escursionisti in difficoltà tra i 23 e i 28 anni. Uno era scivolato procurandosi delle scoriazioni, ma in generale le loro condizioni erano buone, tanto che il gruppo ha poi deciso di rientrare autonomamente. Tempo di bilanci per i carabinieri, in particolare per i militari del Comando Provinciale di Udine, tracciando un bilancio dell'attività svolta nel corso del 2018, parlano di reati in calo, in particolare furti e rapine, difficili invece da contrastare le truffe online. Sempre più sicuro il territorio della provincia di Udine, dove nel corso di quest'anno i carabinieri registrano un calo sia dei furti, in auto e in casa, meno 9%, sia delle rapine, meno 12% rispetto al 2017. Tutti i risultati dell'attività operativa dei militari dell'arma sono stati illustrati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine, Colonnello Alfredo Vacca. Aumentano di contro le denunce dei responsabili dei colpi. Dei 5.700 furti denunciati dai cittadini, per 407 i carabinieri hanno individuato i colpevoli. Per le rapine, che sono state 46 in tutto, in 21 casi sono stati assicurati alla giustizia i colpevoli. Calano i reati anche per l'intensificazione dei controlli su strada. Nelle 2018 c'è stato un incremento di 9.000 servizi rispetto allo scorso anno, più 13%. Tra gli arresti, quasi uno al giorno, 347 in totale, 82 sono riferiti a reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e 18 a reati legati allo sfruttamento della prostituzione. Per le truffe online, che restano sempre alte, quasi 1.400 in 12 mesi, si segnalano una maggiore propensione del raggirato alla denuncia dell'accaduto. Non ci si vergogna più, insomma, come poteva accadere in passato, di essere stati presi per i fondelli anche in rete. Continuano infine le indagini per fare luce sull'unico amicidio del 2018, quello di Rosetta Quaiattini. Contro i furti è importante diventare parte attiva nella difesa dei propri beni. Queste le parole del comandante provinciale di Udine, dei Carabinieri. Il comandante provinciale sottolinea quanto sia importante per la prevenzione dei furti in casa e in auto diventare parte attiva del sistema di sorveglianza di prossimità. Segnalare quindi persone autosospette e chiamare il 912 nel caso si ritenga di essere di fronte a dei truffatori, chiudere bene porte e finestre di case e automobili. Dobbiamo evitare di fornire a coloro che hanno intenzioni criminali l'occasione per portare a compimento quelli che sono i loro intenti criminosi, quindi evitare di lasciare auto o con oggetti incustoditi, evitare di lasciare le abitazioni aperte o non totalmente custodite. I cittadini sono i nostri primi sensori sul territorio e ho notato una fortissima compartecipazione dei cittadini a quella che è la tutela della sicurezza comune, non soltanto per quanto riguarda i furti ma specialmente per quanto riguarda le truffe e persone sospette che vengono notate nell'ambito dei centri urbani. Sono terminate questa mattina le operazioni di spegnimento dell'incendio di Vampato nel pomeriggio di Natale alla K-Metal di Pannellia di Sedegliano, ultimato lo smassamento del materiale combusto che ha richiesto l'impiego di diverse squadre dei vigili del fuoco ed escluso il rischio della ripresa di nuovi focolai, è stato eseguito un sopralluogo per chiarire le cause del rogo. I carabinieri ritengono al momento si tratti di un fenomeno di autocombustione, le fiamme hanno interessato circa 500 metri cubi di materiale plastico stoccato nel capannone, i danni sono ingenti, nessuno è rimasto ferito, ne vi sono rischi per l'ambiente. Ed ora parliamo di un maxi sequestro di pesce e frutti di mare in Friuli Venezia Giulia. Mille chilogrammi di pesce e frutti di mare sono stati sequestrati, oltre 62 mila euro di sanzioni amministrative sono state elevate a carico di pescatori professionali e sportivi, commercianti al dettaglio e l'ingrosso. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia Costiera regionale sulla filiera della pesca nel mese di dicembre. E' stato intercettato un traffico di datteri di mare, specie ittica in via di estinzione e le cui modalità di raccolta sono estremamente invasive e dannose. Durante l'ispezione di un automezzo sono stati rinvenuti 16 sacchetti rete contenenti circa 80 kg di datteri di mare occultati sotto cassette di pesce e sacchetti di molluschi, bivalvi di altra specie. A seguito dei controlli, le capitanerie di Porto di Trieste, Monfalcone, Grado e Porto Nogaro hanno sequestrato 800 kg di prodotto ittico in tutto per violazioni delle norme che regolano la tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti ittici e per prodotti messi in vendita oltre la data di scadenza. Sono state elevate sanzioni per oltre 60 mila euro e due sono state le persone denunciate. Un turista austriaco di 56 anni è stato rianimato dalla Polizia di Stato nella chiesa di Borgo Lussari a Tarvisio dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco il giorno di Santo Stefano. L'uomo, che era con altre persone, è stato defibrillato dagli uomini in servizio per il soccorso e la sicurezza in montagna, coordinati dal commissariato di Tolmezzo diretto dal vicequestore Alessandro Miconi. Dopo averlo rianimato lo hanno affidato al personale medico dell'eliambulanza e è stato portato all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Minaccia di sparare al figlio di una compaesana con il quale ha litigato ma viene bloccato dai carabinieri. Finisce nei guai un 61enne di San Pietro al Natisone. Tragedia evitata grazie ai carabinieri di San Pietro al Natisone che sono intervenuti subito dopo che una 43enne del posto aveva ricevuto una telefonata in cui un suo conoscente la minacciava. Avrebbe sparato a suo figlio con cui aveva appena litigato. I militari dell'arma hanno subito sequestrato la pistola una Smith Wesson regolarmente detenuta da un 61enne del posto. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata prima che concretizzasse il suo proposito. Parrocchi di Cervignano nel mirino la notte di Natale. I ladri sono entrati in canonica e hanno rubato una piccola cassaforte con dentro 3.000 euro in contanti tra cui le offerte per i poveri. A scoprire la manco è stato il sacerdote. Lutto abutrio per la morte di Marco Pensa, 53 anni, stroncato da un malore mentre dormiva nel suo letto. A trovarlo senza vite è stata la moglie a rientro dal lavoro. Inutili i soccorsi. Infortunio sul lavoro nell'officine dello Scallo Ferroviario di Cervignano dove un opereo è rimasto ferito al piede ed è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. I carabinieri di Fagagna hanno scoperto gli autori di una truffa online, un 44enne laziale a un campano di 39 anni, a farne le spese un 56enne friulano che aveva versato 170 euro per l'acquisto di uno smartphone. Telefono che i due fingendosi titolari di un negozio virtuale non gli avevano mai spedito. Entrambi sono stati denunciati. Il questore di Pordenone ha disposto la sospensione per 20 giorni del bar Grattacielo a seguito di una violenta aggressione avvenuta all'interno del locale. Qui un 42enne pordenonese era stato bullizzato dagli stessi gestori e da alcuni avventori finendo con l'essere fatto oggetto di violenze fisiche proseguiti anche fuori dal bar. Un tavolo con il governo per il ripristino del meccanismo di rivalutazione per riaprire il confronto su pensioni e fisco. È quanto chiedono i sindacati pensionati di CGL, CISL e UIL che domani scenderanno in piazza in tutta Italia per protestare contro i tagli alle perequazioni delle pensioni previsti dalla manovra finanziaria 2019. Ancora una volta si usano i pensionati come banco ma con una misura che penalizza ulteriormente il loro potere d'acquisto. Ribadiscono le segreterie regionali dei sindacati dei pensionati che domani mattina a partire dalle 10 manifesteranno davanti alle prefetture di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Ed ora parliamo del mondo delle cooperative. Il numero degli addetti in regione è aumentato di oltre il 12% negli ultimi anni. Il patrimonio netto segna un incremento dell'8,5%. Tempo di bilanci per Enzo Gasparutti alla guida di Lega Coop che a marzo concluderà il suo mandato. Che otto anni sono stati? Sono stati otto anni impegnativi, molto impegnativi perché guidare un'organizzazione durante un periodo di crisi come è stato non è stato facile. Però dai risultati che abbiamo analizzato devo dire che siamo entrati con dei numeri, stiamo uscendo con dei numeri migliori sia in termini di produzione che in termini di patrimonio netto delle nostre associate. E questo è avvenuto nonostante le defiance di alcune cooperative importanti che sono uscite dalla nostra organizzazione o perché hanno chiuso o perché hanno fatto scelte diverse. Quindi sono anni duri ma positivi. Abbiamo incrementato il patrimonio netto che è il dato per noi più importante perché rappresenta il tema dell'intergenerazionalità, quello che noi lasciamo alle nuove generazioni. È requisito mutualistico per noi principale e quindi possiamo dire che l'abbiamo soddisfatto. Ci sono meno imprese ma più preziose, possiamo dire così. Esatto. Diciamo che le cooperative sono cresciute, sono cresciute anche in termini di valore di patrimonio netto, quindi dei mezzi propri. Questo fa felici i rapporti anche con le banche, quindi anche in equilibrio con quelli che sono i progetti futuri di investimento. Stiamo guardando al futuro e questa organizzazione dovrà guardare al futuro con molta attenzione perché l'industria 4.0, che noi chiamiamo cooperazione 4.0, impegnerà molto le imprese, il sistema economico, nel guardare a come interpretare il sistema economico futuro. E nel corso della conferenza stampa, durante la quale è stato appunto tracciato un bilancio dell'attività svolta, una riflessione è stata fatta anche sulla vicenda COPCA. E COPCA la vicenda la conosciamo, l'abbiamo commentata in 50.000 situazioni, l'intervento di COPCA 3.0 è stato, ritengo, importantissimo, unico nel suo genere e quindi abbiamo fatto la nostra parte, andando ben oltre a quello che è il compito di un'organizzazione come la nostra. Siamo contenti di averlo fatto perché esprime quello che è il concetto di solidarietà che la cooperazione ha sempre avuto nel proprio DNA. In quell'occasione è stato tradito il mondo cooperativo, non solo i clienti. Beh, certamente, cooperative sia COPCA che COPCA, ultracentenarie, sono state gestite da diverse generazioni, l'ultima generazione non è stata in grado di fare quello che di positivo hanno fatto le altre precedenti, quindi hanno distrutto quello che è stato realizzato prima. Questo è dovuto a tanti aspetti, al fatto che il mercato è cambiato, in una regione come la nostra, dove la grande distribuzione è la più densa in termini di presenza e quindi delle vittime dovevano esserci. Il mondo cooperativo è ancora utile, fondamentale? Io ritengo di sì. Il mondo della cooperazione è sempre stato utile, lo sarà anche in prospettiva futura, soprattutto quando ci sono problemi. La cooperazione è sempre stata in grado di interpretare i nuovi bisogni della società e lo sapremo fare sicuramente anche questa volta. Ed ora parliamo di un mezzo speciale della Croce Rossa che scende in campo, gira in città a Udine per aiutare con coperte e bevande calde le persone costrette a vivere in strada. Operativi tutto l'anno per aiutare chi è nella necessità e nel bisogno, i volontari del Comitato di Udine della Croce Rossa sono ancora più presenti in questi giorni di festa sulle strade, per non lasciare solo chi non ha nessuno e di beni ne ha pochi, a volte neanche da mangiare. Nella notte, grazie all'ambulanza Save Point, caricata di abiti, genere di conforto, bevande calde e coperte, i volontari della CRI aiutano chi vive per la strada. Specialmente in questi ultimi due anni, perché l'attività è già nata quattro anni fa, abbiamo riscontrato un aumento della povertà proprio che riguardante i nostri concittadini, oltre che alle persone richiedenti asilo. Fondamentale per chi versa in condizioni di difficoltà la consegna di generi alimentari di prima necessità e di abiti nel punto di distribuzione della sede CRI di Udine. È tutta merce che viene donata proprio dai nostri concittadini e che noi raccogliamo presso vari supermercati dove ci accolgono e noi forniamo una lista di quello che sono i generi che vanno di più. Abbiamo fatto il mese di dicembre, a partire dalla casetta in Piazza Libertà, dove la Cams ha fornito a titolo gratuito la pasta per 200 persone, al taglio dei capelli fatti nella sede di Cividale per le persone indigenti. È tutta la distribuzione che comunque viene seguita anche durante il mese di dicembre. Andrà in pensione la storica Stella del Mare, l'imbarcazione che da decenni guida la processione del perdon di Barbana. Potrebbe andare presto in pensione la Stella del Mare, la storica imbarcazione che da ne trasporta a Barbana le figie della Madonna degli Angeli per il plurisecolare perdon. La barca che necessita sempre di più gravosi e costosi interventi di manutenzione e a volte questa ristrutturazione sarà a breve sostituita con una più moderna, non costruita più in legno, bensì in vetroresina, materiale resistente che non richiede la quantità e la qualità di interventi, oltre che il dispendio di fondi come in legno. Una decisione annunciata durante gli auguri natalizi proprio dal vicepresidente del sodalizio gradese e l'associazione dei portatori della Madonna di Barbana, Flavio Troian. Sarà un impegno dispendioso per la nostra associazione, ricordato agli associati, ma contiamo su un ottimo afflusso le sagre di luglio che organizziamo, oltre che al finanziamento di privati. Si tratta infatti dell'acquisto di un'immarcazione già rodata ma in ottime condizioni per il valore di ben 50.000 euro, che garantirà però alla comunità gradese per i prossimi 30 anni il prosiegue o decoroso della manifestazione, ha continuato Troian, oltre ovviamente alla collaborazione con il Comune di Grado e la parrocchia. Presentato nell'occasione anche l'annuale calendario che per l'anno 2019 racconta come filo conduttore i magnifici mosaici custoditi nella millenaria basilica di Sant'Eufemia. La magia del bambino Gesù che emerge dalle acque del lago di Cornino si è rinnovata anche quest'anno, la sera di Natale. Uno spettacolo unico, capace ogni anno di regalare grandi emozioni. La rappresentazione della natività al lago di Cornino, con il bambinello che emerge dall'acqua, è andata in scena per la 45esima edizione la sera del 24 dicembre. Organizzato dalla Friulana Subacquei, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Forgaria nel Friuli e Trasagis, il tradizionale appuntamento delle festività ha richiamato anche quest'anno un pubblico numeroso, c'era anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Durante la messa, Donenio Gobatto ha richiamato i valori dell'accoglienza e della famiglia, idealmente rappresentati dalla Culla. Il sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino, assieme agli assessori Luigi Ingrassi e Pierluigi Molinaro, ha ringraziato la Friulana Subacquei, i volontari della protezione civile, gli alpini, presente il presidente provinciale dell'ANA, Dante Soravito De Franceschi, e le associazioni che ogni anno si adoperano per far vivere questa magia. Il momento più toccante è l'emersione del bambino Gesù, posizionato sui fondali del lago ed accompagnato in superficie dal decano della manifestazione, Lady Vidussi. Nell'attesa, dal centro del lago, le statuine hanno iniziato il loro cammino verso la natività. Il presepe di Cornino è visitabile fino al giorno dell'Epifania. Ed ora andiamo a Gorizia, dove ha fatto tappa l'Equilibrium Tour di Giovanni Allevi. A Gorizia, Giovanni Allevi è ritornato con il suo Equilibrium Christmas Tour, coadiuvato dall'orchestra sinfonica italiana, formazione composta da musicisti provenienti dalle maggiori realtà nazionali e che ben accompagna il maestro nelle sue esibizioni musicali. Considerato colui che ha cambiato il volto della musica classica in Italia e che adora mischiare il suono del piano con quello dell'orchestra. Scarpe da ginnastica, t-shirt e jeans, genio, qualche volta incompreso della scena musicale, criticato ma allo stesso tempo amato dal pubblico di tutto il mondo e degno di ammirazione anche da parte dei detrattori, a Allevi va riconosciuto il grande merito di aver portato la musica classica alle masse. E Gorizia, con il tutto esaurito al Teatro Verbi, ha confermato il grande seguito del musicista marchigiano. Ed ora parliamo del Capodanno a Pordenone, che sarà senza botti ma all'insegna della tecnologia. Il comune del Noncello si accoda alla decisione di tante amministrazioni comunali nazionali, Udine compresa, bandisce i fuochi pirotecnici in piazza al loro posto, uno show videomapping che animerà la facciata di Palazzo Cossettini a cavallo della mezzanotte. Lo spettacolo utilizzerà tecniche e tecnologie innovative per illuminare il palazzo di luce e di proiezioni 3D. Al centro del videomapping, la forza della natura e l'allunaggio di cui nel 2019 ricorre il cinquantesimo anniversario. Ed ora siamo alla pagina sportiva, 1-0-0 che non fa una grinza, quello di Spal Udinese, secondo il doppio ex Rudy Vanoli, che individua nel modulo di gioco dei Bianconeri il principale problema della squadra. È stata una partita da 0-0, non ricordo parate importanti da parte dei due portieri e penso che non volevano farsi male l'una contro l'altra. Certo che se vuoi raggiungere certi obiettivi in questo momento vedi la salvezza, bisogna fare qualcosa in più, anche visto dell'organico. Secondo te questo organico per ora ha raccolto meno di quanto può? È un sistema di gioco che secondo me penalizza tanto la squadra, perché non è un 3-5-2 ma è un 5, è una difesa 5. Io ho visto anche la partita con la Roma, con la Roma ci può stare una partita di contenimento e poi si gioca di rimessa. Ma con le squadre secondo me paritarie, se non anche inferiori, si dovrebbe cercare di alzare la squadra agli esterni e essere molto più incisivi a livello offensivo. perché altrimenti c'è molto scollegamento tra il centrocampo e l'attacco. Sento sempre che Lasagna è solo e quant'altro, è solo perché appunto le distanze da coprire sono tante e si accompagna con troppo pochi uomini la via del gol. E tanto si guarda già al prossimo match Udinese-Cagliari in programma sabato prossimo alle 15 a dirigere la gara, è stato disegnato l'arbitro di Aprilia Maurizio Mariani, sono sei precedenti di Mariani con l'Udinese per un bilancio di due vittorie, un pareggio tre sconfitte. Mariani ha diretto per l'ultima volta i Friulani lo scorso 20 ottobre in occasione di Udinese-Napoli finita 0 a 3. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento in diretta questa sera a partire dalle 19.45 con screenshot, ospite di Davide Vicedomini sarà Ferruccio Saro, coordinatore di progetto FVG che svelerà le prossime mosse del movimento, darà i suoi giudizi sulla giunta regionale, sul suo operato, sulle riforme già varate con uno sguardo rivolto anche al Governo Nazionale. Appuntamento dunque con screenshot a partire dalle 19.45. Io mi fermo qui, grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. 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 Grazie a tutti.